L'omaggio al milita ignoto di sua eccellenza il capo del governo ungarese, generale Genboes, accompagnato dal ministro degli esteri d'Ungheria e dalle personalità del seguito. Pochi minuti dopo il rito è stato rinnovato dal cancelliere d'Austria, sua eccellenza Schuschnig, accompagnato dal ministro degli esteri e dai membri della delegazione austriaca. La visita degli illustri ospiti alla casa madre dei mutilati, dove erano convenute le rappresentanze delle associazioni combattentistiche italiane. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS